Ciao creatura, io sono Eka Desplendente e benvenuta o bentornata nel regno di CosaE, A-S-M-A. Come va creatura? Buona domenica, buon riposino pomeridiano, siamo qui anche questa domenica insieme per scegliere la cappa. Ma sto girando questo video qualche giorno dopo dell'uscita del video così vi ho lasciato scegliere e mi sono resa conto che l'ultima volta forse l'avevo registrato un po' troppo presto. E non avevo ricevuto molti commenti a meno che non abbia ricevuto adesso più commenti proprio per questo motivo perché l'ultima volta ne avevo pochi, non lo so. Comunque fatto sta che l'ultima volta quando ho registrato il video, subito dopo aver registrato il video ho iniziato a ricevere i commenti. Ah io scelgo quello, scelgo quello, ma come appena ho fatto il video? Ecco quindi stavolta ho lasciato passare più giorni. Ok, allora ho visto che praticamente quasi tutti avete votato la cappa numero 3 e solo una persona ha votato la 2, che era carina, anche questa sarebbe stata carina, questa sembra un water quindi anche no. Quindi andiamo a mettere la cappa numero 3, una grande richiesta. Questa cappa è così deliziosa e potente, ora dalla cucina non uscirà più alcun odore, sono contenti bene, intanto lo avrebbero detto per qualsiasi cappa. Ok, andiamo a raccogliere 4 stelline, anzi 3 perché una ce l'abbiamo già. Allora lei ci dà una ricompensa di 15 diamanti, mentre invece questa è un po' più dirchio, ci dà 10 diamanti, c'è uno che me l'ha detto, noi vogliamo i diamanti, quindi andiamo da Jess. E vai, sistemiamo i gomitoli di lana, è una cosa che ci piace molto fare. Adesso non so quanti siano, comunque, come so ti bisogna dare un po' random perché non so quanti abbiamo di quel colore, se sono 3, non me ne fa più, ok. Non infilo così, se no, nada, anche questi non so quanti ne abbiamo, intanto li metto 40, poi vedremo. Questo cos'è, no? Un telo? Un tessuto? Allora, qui. Ok, sì, abbiamo già capito tutto, siamo troppo avanti, no? Dopo che ho detto questo, mi l'ho appiazzato lì, ok. Ok. È coincidenza che ho anche un posizionato di colore abbastanza così, no? Non ci avevo fatto caso, ma ormai siamo troppo schillati, quindi... Va bene, va benissimo. Allora, metterei questo. Voi metterai il viola. Gromaticamente mi piace così. Diciamo che sicuramente mi piace questo effetto. Questa sfumatura che mi amura così. Solo che mi rimette dove vuole lui. Ecco, adesso non ci sta bene perché ci sarebbe stato bene un verde vicino a giallo, ma non possiamo più, non sto a tornare indietro. Quindi potremmo fare verde che ha un pugno nell'occhio vicino alla rosa, ma non importa. Poi mettiamo questa. Che è stupendo, infatti anche lei è contenta. Noi mettiamo questo. Infine mettiamo il blu. Lei non ci sta male. Adesso... Ah, intanto mettiamo i deli. Vediamo quanti ce ne sono. Allora, niente, l'arancione lo mettiamo. Se mi fai mettere dove voglio, gentilmente, grazie. Ok, ok. Bene. Un, due, tre, quattro. Non sappiamo se sono cinque in viola. Intanto la posizionano gli azzurri. Vediamo un po'. Emma, Emma. Emma, Emma. Ma, è tutto l'olio mio. Rosso. Questa mattina avevo voluto anche girare degli altri video, ma purtroppo stanno tagliando l'erba e... O, questo è il problema. Eh, no, non ci stupendo così. O, non ci stupendo. No, non ci stupendo. Ciao, ciao. non mettere colori freddi che da un lato, colori caldi dall'altro, tutto qua anche se, lo so che più completa, non abbiamo preso tutte le stelline come mai, cosa mi ho sbagliato, ah ecco, adesso si, benissimo, bel lavoro, perfetto, vediamo che regalo abbiamo trovato, scarta la carta, scarta la carta, scarta la carta, vabbè dai sempre piante ok, abbiamo le nostre tre stelline, possiamo andare a scegliere cosa, che cosa, allora bianco, io direi così, si alterna con l'altro, rosso indecente, brutto, bianco, troppo tutto bianco attaccato, io direi questo, la casa di Arlecchino, quanto spazio libero, ce ne è quasi abbastanza per fare entrare tutte le tue pentole e padelle, abbiamo abbastanza stelle, andiamo a guadagnarcele, è il nostro duro lavoro di mettere in ordine le cose, e andiamo perché Jess ci paga di più, ok, abbiamo una pizza, poi abbiamo qua i pepeoni, che ovviamente non stanno in ordine, sono tutti sparpagliati, abbiamo l'aglio, mettiamo qua l'aglio, ma chi è, che gusto questo aglio, vuoi sapere, sono le pisse, non so perché pensi, no, che gli italiani usano tanto aglio, io non lo uso neanche, ne usavo un po' tempo fa, con il polvere, da mettere sulle patate al forno, perché secondo me le rendevano più gustose, le patate, però adesso direttamente ho comprato un mix per le patate al forno, e quindi lì c'è un po' di tutto all'interno, e ho risolto così, no, so fare quell'aglio lì, le pelle, altri peperoni, ok, un'altra pizza, che sia tipo, non sembra pizza sul gelato, perché non mi sembra un freezer questo, quindi non lo so, allora, credo, no, cioè prendo una cosa e me ne do un'altra, ok, io non sto abbirando i colori neanche un po', no, 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 vediamoci dalla testa stellina, scarta la carta, scarta la carta, scarta la, che è sta roba, cioè non ho visto delle cose magnifiche, cosa abbiamo vinto, una cosa di cui non so cosa sia, è brutta, cioè io non ho parole, creatura, allora niente, ci manca la quarta stellina, quindi niente, bisogna andare a lavorare, a mettere in ordine, come delle parabecche salinche, allora, si va di tinte pennarelli, pennarelli, forse così, stavolta davvero non sto mettendo in ordine quel colore, questo è una cosa grave, allora, aspetta, no, aspetta, allora, ok, vorrei così, oh no, ce ne sono tre viola, ma forse sono quattro, vediamo, ma se sono tre come vanno, tre così, allora, aspetta, uno, due, tre, uno, due, tre, partite ovviamente la pubblicità, la bomba, ma è tutto a posto, allora, ciao, ciao 7-1-2-3, 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-3-1-2-4-4-2-3-2-2-5-2-5-7-5-8-7-2-5-7-5-7-2-4-0-5-8-6-2-9-5-7-5-7-5-6-8-8-9-6-7-9-5-7-7-5-8-1-8-4-7-5-9-7-6-7-5-7-7-6-7-6-7-7-8-6-7-7-8-7-E-6-6-7-8-y-7-6-7-7-7-8-7-7-8-7-7- C'è questo, non ci andranno questi, sono 3 o più, non lo so, mi sembra contento Spero non si senta troppo vulcanale, perché la vicina ha avuto l'idea geniale di stare in un appartamento e comprarsi un cane, sai com'è? Vabbè, e quindi lo libera proprio sotto la mia finestra, giustamente, da abbaiare, no? Vabbè, l'ho capito qua cosa ci fa, dì qua, non ne ho idea, potrebbero andare anche sotto queste realtà, ma magari mettiamo, Bu, vediamo Ma qui, non aspetta Buongiorno 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 Ok Buongiorno Buongiorno Aspetta, ho sbagliato Ah, ecco Grazie creatura che mi ha avvertita A che tenere accorta che Niente Niente, stanno facendo un magello fuorispermossizzato Credo che qua vado con quelle grossi e qua quelli un po' più Non so se c'è un senso logico col colore Caccio Ok, l'ho messi malissimo, ma non ci interessa Via Completa E via Non facciamoci troppi problemi Non mi interessa Scarta Scarta La carta Scarta La carta Scarta Basta Piante Ma basta Cioè, vogliamo anche qualcosa di diverso Vabbè Intanto adesso non le posizioniamo Vabbè, piuttosto del pollo crudo, meglio la piantina Effettivamente Vediamo che cos'è Cosa c'è qua Ah Il pensile qua porta piatti Nero, troppo nero Questo Pia Metterei questo Oggi mi va così Oggi mi va così Ci sta Mettiamoci tutti i miei biscotti Tutte le due marmellane nel porta piatti Ok Sarà il nostro buffet dolce esclusivo Sembra un'idea deliziosa Le sedie, credo Le sedie, ok Oggi non ti faccio scegliere niente Così dormi Basta Non ti stresso Mi sembra di stressarti quando ti chiedo di scegliere Quindi Non so se ti fa piacere Scrivono nei commenti Se ti fa piacere la prossima volta ti faccio scegliere Altrimenti Se è uno stress Lasciamo stare Coditi A dormita Ti basta Io sono andata qua A intuito Speriamo di averci assegato Pane integrale Pane normale Ci sono Queste bagnotte che fanno un sacco di voglia Soprattutto queste che sono tipo pretzel Che buoni Ma lo sai che a Lidl ci sono i pretzel Questi sono i pretzel Quelli Con la forma proprio classica Quella specie di fiocco A Lidl una volta Un tempo fa Avevano lanciato anche sto pretzel Che probabilmente è piaciuto solo a me Perché poi Non l'ho più fatto Con il formaggio Che buono che era Invece una volta c'era anche proprio il pane al formaggio A Lidl Probabilmente anche quello La mangiavo solo io Perché non l'ho più fatto Quindi Vabbè Peccato Perché era buonissimo Io me lo compravo sempre Non so se l'hai mai associato Adesso invece fanno tutti altri tipi di pane Poi ogni tanto Ne fanno uscire qualcuno di diverso Tanto così Come novità Ma poi dopo alla fine Lo mettono lì così E dopo non lo trovi più Come cosa tipo A limited edition Ma questo Qua Ci sono poi effettivamente All'inizio da questi pane E' caduto Ci aveva tolto la stellina Hai visto? Ci ho rimosto malissimo Ok Scarta La carta Scarta La carta Scarta La carta La candela Ma basta Oh mamma mia Che delusione Veramente Sti premi No grazie Non voglio vedere altre 14 La pubblicità A tutto volume Ok Andiamo a scegliere Le Sedie Che queste secondo me Perchè 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 E qua Le pretese Aumentano Perchè Andiamo da Gess, che è più generoso. Ok, queste sono piastrelle, quelle lì, non so. Qua ci sono dei rulli con della carta o stoffa, non so. Poi, queste secondo me vanno così, ok, sono quattro, perfetto. Coloriranno, non mettiamo, ah no, cinque, 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 uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, cinque. Ok, che bello, questo qua è i grellini, ovviamente, perché io ce l'ho fissa. Se mi segui su, anche, sugli ull, dove ci sono i fiori, eccomi qua. E abbiamo già terminato, siamo stati velocissimi. Sai, non è uscita neanche una pubblicità stavolta. Abbiamo detto, tanto li vedi tutti in seguito. Scarta la carta, scarta la carta, scarta. Ma dai, ma un'altra coperta, basta. Non si possono vendere e ottenere altri premi, perché... Pinciamo sempre le stesse cose. E niente, ci manca un... Ci manca una stellina, quindi... Andiamo al frigo, qua, delle meraviglie. Il frigo delle meraviglie. Spero che tu lo stia sentendo quest'anno, tagliando l'erba. Qua, qualsiasi giorno, tagliano l'erba. E non siamo neanche in campagna. Quando andremo in campagna, forse la taglieranno anche meno. Beh, questo è il dragon fruit, che io non ho mai assaggiato, ma tutti dicono sa di kiwi. E però... Dei frutti che voglio, che vorrei piantare nel mio giardino... Eh, ma... Posso mettere sopra, no? Aspetta. In campagna vorrei fare una siepe di passiflora, che tra l'altro è... Fa il frutto della passione. Ah, sbagliato, ma non qua, questo. Il frutto della passione. Quindi poi dopo avrei sia i fiori della passiflora, che sono i miei preferiti, e sia anche il frutto, se viene impollinato, ovviamente, dalle api. Sì, però sì, ci sono sempre api in campagna, quindi potrebbe tranquillamente accadere. E avrò anche il frutto per un'altra siepe, che vorrei fare lì, sempre davanti a casa. Metà passiflora. E che tra l'altro con i fiori si possono fare anche le tisane. E dall'altra parte, a metà, a metà, l'alchikenji, che anche lì è un frutto che non trovi al supermercato da mangiare. Sì, magari i passi, i passi un frutto lo trovi. Però costa un botto. E non sai da dove arriva, invece lì sarebbe proprio te del mio giardino chilometri zero. Scarta la carta, scarta la carta, scarta. Basta, questi bambù. Bambù, 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 bambù. Vabbè, andiamo a scegliere cosa. Non so, vediamo insieme. Un altro mobile. Ma sai che, ma sai che, lo mettiamo bianco adesso? È un caos questa cucina. Hai idea di cosa potremmo metterci? Pasta, cereali, guarnizioni, farine, polveri alimentari. Ho capito. Spessi, condimenti, oli, aceti. Ho capito. Abbiamo sbloccato il giardino? Ma stiamo scherziamo? No, vabbè. Prossima puntata, giardino. È titolo di questa puntata? Ecco a te cosa mi consigli. Ecco a te del futuro che andrà a editare il video. Ma penso, parlo tra me e me, ma penso che potremmo mettere, non lo so, non ne ho più pali di idea. Spero che questo video ti abbia fatto rilassare. Io come sempre ti auguro un buon riposino della domenica. Dopo pranzo, buonanotte, se lo stai guardando domenica sera, e se lo stai guardando qualsiasi altro giorno va bene lo stesso, buon relax. Ciao creatura. Ciao creatura. Ciao creatura. Ciao.